Dopo la beffa del derby contro i cugini del Gioiosa Ionica, per il Marina di Gioiosa di Gianni Scigliano arriva ieri il pronto riscatto tra le mure amiche. I giallorossi del presidente Vincenzo Tavernese superano senza qualche affanno l'ostacolo Reggio Mediterranea, priva dell'attaccante di peso marino, stabilizzandosi così nella parte sinistra della classifica del torneo di promozione. La partita, ieri pomeriggio al Comunale di Marina, ha vissuto sui binari dell'equilibrio fino alla prima marcatura di Matteo Carbone, migliori in campo insieme al fratello Vincenzo. Dopo la rete del vantaggio, i patroni di casa si sciolgono, riuscendo a giocare sul velluto senza concedere pressoché nulla all'avversario. Gli ospiti tuttavia reagiscono nella ripresa, ma trovano sulla propria strada un ottimo portiere spadola. I suoi interventi sono stati veramente straordinari, soprattutto sui calci piazzati. La formazione regina ha raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato dal giovane Dascola e concesso dal signor Santoro di Palmi, dopo un presunto fallo, molto contestato dal Marina di Gioiosa, del capitano Ieraci. Il pari tuttavia dura poco per la formazione di mister Rotondo. Ci pensa infatti uno scatenato Matteo Carbone, con una prodezza delle sue, a mettere a segno la sua doppietta personale, l'ennesima in carriera con la maglia del Marina di Gioiosa, regalando di fatto ai suoi tre punti importantissimi in ottica playoff. Tra sette giorni, per il Marina di Gioiosa Ionica, l'insidiosa trasferta in quel di Palmi, mentre il Reggio Mediterranea ospiterà nell'anticipo del sabato il Polistena. Gianni Scigliano, se noi dicessimo Matteo Carbone Show, lei è d'accordo? Sì, sicuramente, è un giocatore di categoria superiore, ma anche gli altri hanno sudato, si sono sacrificati in campo. E' chiaro che lui è il nostro fiore all'occhiello e giochiamo per lui e lui è un giocatore che fa la differenza, effettivamente. Una squadra che si è espressa bene, pur quando avete subito il pareggio del Reggio Mediterranea, avete creduto di ottenere questi tre punti, ma poi soprattutto oggi è piaciuta tantissimo, ancora una volta, la retroguardia, che soffre poco. Sì, noi abbiamo subito un rigore a quanto dubbio, almeno dalla mia posizione, mi è sembrato dubbio. Però la squadra ha lottato, la squadra voleva questa vittoria, perché vuole continuare, diciamo, fra virgolette, a sognare, a continuare in questi risultati positivi. Hanno avuto una grossa reazione, l'hanno voluta questa vittoria e il merito è tutto loro. Poi, per quanto riguarda la nostra retroguardia, abbiamo una retroguardia di categoria superiore, secondo me. Il Reggio Mediterranea esce battuto da Marina di Gioiosa, cosa non ha funzionato, secondo lei, nella sua squadra? L'assenza di Marino, intanto, quanto ha influito su questa sconfitta? Vabbè, Marino per questa squadra, come in qualsiasi altra squadra, il valore ha aggiunto, quindi c'è poco. Ho dovuto cambiare nella fase di scaldamento subito, perché il ragazzo risentiva di questo piccolo problema e dove è subito un altro fuori quota, il 94, un attaccante, ha fatto quello. Però non mi posso lamentare i ragazzi, perché hanno avuto un approccio innanzitutto così e così. Poi, alla lunga distanza, siamo usciti fuori. Avevamo recuperato lo svantaggio che siamo inceppati con il discorso Marina, però non mi posso lamentare assolutamente. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un grosso passavanti. Grazie a tutti.